Questo cratere creato dalle bombe russe nei dintorni di Zaporizia fa impressione, certo, ma non è niente rispetto a quello che succederebbe se saltasse in aria la centrale nucleare di questa città ucraina, la più grande d'Europa. Nessun fungo atomico come Hiroshima, ma la fuga di radiazioni sarebbe una catastrofe peggiore di Chernobyl. Il controllo russo sulla centrale mette in pericolo la regione. Mosca deve restituirla al legittimo proprietario, dichiara in un comunicato il G7 a guida tedesca. Ma per il capo dell'operatore ucraino Energoatom Kotin, i russi vogliono collegare l'impianto alla rete elettrica della Crimea, annessa da Putin otto anni fa, scatenando la guerra nel Donbass, prologo di quella attuale, in cui la penisola nel Mar Nero adesso viene coinvolta direttamente dopo le esplosioni in una base aerea russa e le dichiarazioni di Zelensky della notte scorsa. Questa guerra russa contro l'Ucraina, contro tutta l'Europa libera, è iniziata con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua liberazione, ha detto il presidente ucraino. Mentre la sua gente continua a morire sotto le bombe o con un colpo in testa dopo essere stata torturata, come è successo a Buccia, dove, quattro mesi dopo il massacro, hanno seppellito 14 cadaveri non identificati. Alla sporca guerra di Putin qualcuno ha detto no in Russia. Di molti non sappiamo il nome, mentre è passata la storia la giornalista Marina Ovziannikova, che nei primi giorni dell'invasione protestò in diretta. È stata arrestata un'altra volta. Ma la notizia più sconfortante viene dalla Polonia, dove nelle scuole superiori nel prossimo anno scolastico ci saranno lezioni per imparare a usare le armi.